L'ampia pagina Covid come sempre in apertura con l'obiettivo puntato sui vaccini. Prosegue la vaccinazione in Abruzzo, c'è l'appello del presidente Marsiglio alla fiducia da parte dei cittadini dopo ciò che è accaduto con AstraZeneca. Tra l'altro domani ci sarà un vertice importante con l'EMA per cercare di risolvere la questione. Marsiglio ha comunque precisato che il piano vaccinale nella nostra regione non si è mai fermato dove si è andati avanti con Pfizer e Moderna. E dunque i vari comuni continuano, proseguono nelle vaccinazioni. Noi ora ci colleghiamo in diretta con Francavilla al mare dove alvie alle prime dosi per gli ultraottantenni dalla città rivierasca la nostra Anna Di Giorgio con il sindaco Antonio Luciani che ci fa anche un po' il punto della situazione sui contagi. Anna, se mi senti cedo la linea a te e al tuo ospite. Naturalmente buongiorno. Sì Antonella, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8. In questo momento siamo a Francavilla al mare. Alle nostre spalle, lo vedete dalla telecamera di Diego Martelli, inquadrato il distretto sanitario dove tra pochissimo inizieranno le vaccinazioni sulla popolazione ultraottantenne di Francavilla al mare che aveva manifestato il proprio interesse registrandosi proprio sulla piattaforma della regione Abruzzo. Accanto a me c'è il sindaco di Francavilla Antonio Luciani con cui parleremo proprio di questo avvio della campagna vaccinale che però a Francavilla era già partita con la somministrazione del vaccino AstraZeneca per il personale scolastico, poi parleremo anche di questo. C'è stata questa sospensione temporanea e precauzionale, lo ricordiamo, ne abbiamo già parlato nel corso dei nostri notiziari, sospensione che però già da domani potrebbe avere ulteriori novità, potrebbero esserci novità con il pronunciamento dell'EMA e il ministro Speranza oggi ha proprio detto che qualora insomma dovesse esserci un pronunciamento favorevole si riprenderà questa campagna di vaccinazione con l'AstraZeneca cercando anche di recuperare i ritardi attraverso turni straordinari di somministrazione. Ma di questo poi parleremo tra poco, intanto con il sindaco Antonio Luciani proprio vogliamo fare un po' il punto della situazione sulla campagna vaccinale per gli ultraottantenni del suo comune, quanti sono e insomma in quanto tempo contate di chiudere questa prima fascia di vaccinazioni? La popolazione di Francaville, gli ultraottantenni, è una fascia di circa 2000 persone delle quali circa 1200 hanno dato la propria adesione tramite l'iscrizione in piattaforma della ASL. Nella giornata di oggi, in quella di venerdì e di sabato mattina, il distretto sanitario con la dottoressa Rosa Borgia e grazie anche al direttore generale della ASL Thomas Schell vaccinerà i primi 240 anziani, ma poi a seguire andremo avanti io conto che in una decina di giorni esauriremo tutta questa fascia. Inoltre ci sono delle iniziative perché ci sono quasi mille anziani che non si sono iscritti, non hanno dato la propria manifestazione di interesse, quindi abbiamo attivato uno sportello della protezione civile per favorire quelle persone che magari non sono in grado da sole di prontarsi sulla piattaforma, basterà telefonare un numero che forniremo alla cittadinanza per poter far sì che i ragazzi della protezione civile possano procedere all'iscrizione per conto della persona anziana che lo richiede. Quindi questo e altri servizi faremo per agevolare al massimo. Con la ASL stiamo mettendo a disposizione anche delle strutture comunali, pensando alla vaccinazione di massa anche che verrà, perché la questione dei vaccini certo non finisce qui e quindi stiamo adattando un locale che avevamo, dei locali che avevamo destinati al centro del riuso che invece in corsa stiamo modificando per renderli idonei alla vaccinazione. Abbiamo già messo a disposizione la tenso struttura a fianco al palazzetto dello sport, penso che domani firmeremo la convenzione con la ASL, con il dottor Rochelle, col quale mi sono sentito pochi minuti fa e questa tenso struttura appunto sarà utilizzata insieme al distretto per poter implementare, per poter aumentare i numeri della vaccinazione. Tornando invece ad AstraZeneca, sindaco, qui presso il distretto sanitario avevate già avviato la vaccinazione con AstraZeneca. La situazione che si è venuta a creare poi nel momento in cui è arrivata la notizia della sospensione, qual è stata? Un po' di timore sicuramente, abbiamo ricevuto qualche telefonata, però devo dire che è stata vaccinata più oltre la metà, quasi due terzi della popolazione del personale docente, scolastico e anche universitario. Particolari problemi non ne abbiamo ricevuti, non abbiamo avuto segnalazioni di problematiche legate al vaccino, quindi dobbiamo dire che tutto è andato bene, quindi le rassicurazioni che anche il Ministro della Salute Speranza ha dato sembra che siano nella direzione giusta. Speriamo che l'EMA si pronunci domani in senso positivo in modo da poter riprendere l'utilizzazione del vaccino AstraZeneca e di poter terminare anche la popolazione scolastica. Aggiungo questo, io lo farei molto volentieri, il vaccino AstraZeneca lo farei anche subito se ce l'avessero a disposizione. Potremmo procedere per alzata di mano a questo punto. Io la alzo subito, sì. Anch'io mi accodo. Allora, Sindaco, insomma, questo per dire che comunque domani ne sapremo qualcosa in più, appunto, come diceva lei, per AstraZeneca. Qui intanto però tra poco partiranno le vaccinazioni sugli ultraottantenni con vaccino Pfizer. Antonella, torneremo anche sull'argomento se ci saranno novità, ma intanto da Francavilla io ti restituirei la linea se non hai domande da studio. Noanna, ringrazio te, naturalmente il Sindaco di Francavilla Antonio Luciani e poi ci ricollegheremo con te ovviamente per il consueto bollettino aggiornato con i dati Covid nel Tg della Sera.